A Gallarate, sulla collina di Crenna nasce un grande progetto del Fondo Immobiliare AMSI. Un'iniziativa immobiliare pensata intorno a te e alla tua famiglia per vivere la tua residenza con esclusività e riservatezza, in un parco inserito in posizione privilegiata nell'incantevole paesaggio dell'elegante collina di Crenna. Le residenze di Crenna sorgono in posizione tranquilla, integrate nel verde che le circonda e allo stesso tempo perfettamente collegate con tutti i punti strategici della città di Gallarate. La favorevole posizione, poco distante dal centro cittadino e dai centri commerciali della zona, è ideale per raggiungere negozi, servizi, luoghi di lavoro e di svago. Anche i collegamenti aeroportuali e le principali arterie stradali e ferroviarie sono comodamente raggiungibili. Un grande parco privato, delimitato da una pista ciclabile e da un percorso vita modernamente attrezzato, sarà il luogo ideale per rilassarsi e recuperare il benessere fisico, magari dopo un'intensa giornata di lavoro. Anche i vostri bambini potranno godere del grande parco e divertirsi in sicurezza nell'area giochi progettata appositamente per loro. Il parco sarà dotato di una palestra privata, attrezzata con macchinari Tecno Gym e di una confortevole sauna finlandese. Nel verde dei giardini si potrà godere di una meravigliosa piscina riscaldata e di una grande vasca jacuzzi per idromassaggi, realizzate con moderni sistemi di riscaldamento ad energia solare, in grado di fornire acqua sempre ad una temperatura ideale. Ogni dettaglio è pensato per il vostro benessere e per la cura del vostro corpo. Il portiere sarà ospitato con la sua famiglia in un appartamento di proprietà del condominio, si occuperà di garantire i servizi e la manutenzione del parco e delle singole residenze, intervenendo per le piccole riparazioni, garantirà privacy e sicurezza per voi e per la vostra famiglia. Per i vostri piccoli acquisti quotidiani è stata pensata una comoda zona commerciale adiacente e separata dalle residenze. Progettate, secondo una concezione urbanistica innovativa e di qualità, le residenze di Crenna saranno costruite utilizzando le più avanzate tecnologie, che garantiscono una piena compatibilità ambientale grazie all'utilizzo di materiali naturali ed ecocompatibili. Saranno adottati dettagli costruttivi mirati al risparmio energetico e finalizzati all'efficiente utilizzo dell'energia solare per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria. Il comfort abitativo di ogni appartamento è tale da rendere la vostra casa il luogo ideale per rigenerarvi al termine di una giornata di lavoro. Luogo silenzioso ed esclusivo, in grado di garantirvi sicurezza e prepararvi al meglio per la giornata successiva. Naturalmente, il nuovo complesso non è pensato solamente per il vostro riposo e il tempo libero, ma anche per tutte le esigenze della vita moderna. L'intervento prevede residenze, locali commerciali e garage ed è frutto dell'esperienza di professionisti che operano nel settore immobiliare da oltre 50 anni. Gli appartamenti sono tutti particolarmente luminosi grazie alle ampie vetrate e godono tutti di meravigliose vedute quali la collina di Crenna e il Monte Rosa. Dal piano delle auto rimesse, ascensori di pregio vi condurranno direttamente ai vari appartamenti. Gli accessi dei vari edifici saranno costituiti da grandi androni rifiniti con eleganti marmi e saranno collegati anche con il parco interno. Le abitazioni sono pensate e costruite come strutture architettoniche che si integrano perfettamente nel contesto in cui si inseriscono. La qualità dei materiali, le tecnologie innovative e l'impiantistica con certificazione energetica garantiranno comfort, risparmio energetico e isolamento acustico. Il tetto, perfettamente isolato, sarà realizzato in legno con travi a vista per rendere particolarmente eleganti e confortevoli gli attici. La copertura sarà in rame per valorizzare e dare rilievo al decoro architettonico dei fabbricati. Tutte le unità immobiliari godranno di ampi terrazzi coperti per godere del verde circostante. Sono anche disponibili soluzioni con giardino privato. I nostri architetti saranno a vostra disposizione per aiutarvi a personalizzare e a caratterizzare secondo il vostro gusto gli interni del vostro appartamento, assicurando allo stesso tempo design ed esclusività. Con loro potrete scegliere senza costi aggiuntivi i materiali delle migliori marche e della migliore qualità. I pavimenti potranno essere realizzati in parchè di qualunque essenza e a vostra scelta anche con listoni di grandi dimensioni. In alternativa potrete scegliere pavimenti di grande esclusività e moderno design nella intera gamma a catalogo della casa di produzione. I bagni avranno sanitari di design, eleganti rubinetterie e il bagno principale avrà la vasca a idromassaggio. Ogni appartamento avrà di serie l'impianto di aria condizionata a caldo-freddo e sarà servito dalla rete di teleriscaldamento. videocitofono digitale, impianto tv terrestre e satellitare, infissi in legno e alluminio con più guarnizioni di battuta. predisposizione per antifurto che, a richiesta, sarà connesso direttamente alla portineria. Le condizioni di vendita vi sorprenderanno per la flessibilità dei pagamenti. Le residenze di Crenna è convenzionato con Banca Popolare di Milano che, a vostra richiesta, personalizzerà il mutuo secondo le vostre esigenze e alle migliori condizioni di mercato. Ogni vostro pagamento in acconto sarà garantito da Polizza Fideiussoria di Primaria Compagnia Assicurativa che garantirà anche la vostra abitazione per dieci anni con Polizza Postuma. Vi attendiamo presso i nostri uffici sette giorni su sette per farvi scoprire la cura, la passione e l'alta qualità che mettiamo nel realizzare ogni particolare della vostra casa. Grazie a tutti. Grazie a tutti.